Nuova Pescara e Pescara nuovo capoluogo di regione d'Abruzzo. C'è un po' di confusione. Qual è la posizione del centrodestra? La posizione del centrodestra, a seconda dei territori in cui si è eletti, può assumere diversificazioni. Certo è legittima la posizione di chi vive all'Aquila e pensa che sia immutabile qualsiasi assetto istituzionale e chi invece a Pescara vedrà venire meno l'indipendenza di due comuni grandi, uno grande tanto quanto l'Aquila che si chiama Montesilvano, che cesserà di esistere creando un'unica grande città da oltre 200.000 abitanti. Allora è immaginabile che un'unica grande città di 200.000 abitanti sia anche un polo di attrazione extra regionale magari del medio adriatico, parliamo di una realtà che è il doppio di Ancona. Ecco, mi pare abbastanza ridicolo che a tutte le persone che si recheranno nella città di Pescara per servizi, per svolgere attività, gli si dica prego adesso prendere la macchina, farsi un'ora e un quarto per raggiungere l'Aquila. Ovvero, cosa voglio dire? Che al di là della medaglietta e della carta intestata con la scritta capologo di regione, ci vogliono in questi mesi delle norme puntuali e precise non confuse come quelle del Presidente D'Alfonso, che descrivano precisamente il ruolo delle due città, le competenze e i finanziamenti a sostegno. Altrimenti stiamo facendo semplicemente un'operazione da campagna elettorale tipica del Governatore che però alla fine creerà più problemi che vantaggi. Voi siete favorevoli ad un eventuale capologo di regione come Pescara? Ma io credo che Pescara sia nei fatti il capologo della regione Ambruzzo, lo sia per l'operosità dei suoi cittadini. Questo non va visto contro l'Aquila, che può rimanere tranquillamente il capologo istituzionale della nostra regione, perché non ci interessa spogliare nessuno della sua dignità e del suo onore, ma certamente va premiata una realtà che fa un sacrificio rinunciando a due identità come Montesilvano e Spoltore, ma va sostenuta economicamente, va fatta attrezzare per offrire servizi ai cittadini, che poi lo scopo dei comuni e delle città è sempre quello di offrire un servizio a chi ci vive, a chi ci viene e a chi ci lavora, non è quella di riempirsi la bocca di un'identità che ormai appartiene a qualche secolo fa.